The Apprentice Italia, prima stagione, episodio 6. Benvenuti amanti dell'arte ed appassionati di eventi culturali. In questo video vedremo quali sono gli step fondamentali per organizzare un vernissaggio che sarà ricordato da tutti i partecipanti e da tutti gli ospiti di eccezione. Il vernissaggio è più di un semplice evento di apertura di una mostra d'arte, è un'opportunità per connettere artisti, collezionisti e appassionati d'art in un ambiente stimolante ed emozionante. Con una pianificazione attenta e una cura per i dettagli sarà possibile trasformare questo momento in una esperienza davvero memorabile. Prima di vedere come se la accaveranno i nostri concorrenti vi chiedo di mettere un like e se volete continuare a vedere gli episodi di The Apprentice vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi l'uscita dei miei prossimi video. Intanto, buona visione! Uscito dalla Borghi era incazzato nero perché ho pensato subito a un complotto e i complotti io non li amo. Alberto mi ha detto metto la settima, non l'ho ancora vista. Il gentleman agreement da oggi è smantellato, quindi da oggi si gioca cattivi. Parlo come il Belloni che mi sembra che non va più avanti. Sì, i Belloni veramente. Cioè, uno più si espone più si dà da fare, si assume il rischio e mi sembra più e peggio. Io mi sono messa in gioco, tutto e per tutto. Non mi paro il culo, non mi nascondo dietro a un dito, mi prendo le mie responsabilità e quindi penso che questo lui l'abbia visto e sono contenta. Quando è finito ha detto, Jessica tu sei fuori, Francesco te lo sei andato fuori per aver rotto la cuffia e con te non ce l'aveva particolarmente. No, no, perché non è la prova, è l'atteggiamento, come hai detto lui, l'attitudine di una persona. Credo di avere la stoffa per stare ancora in questo programma. Voglio vincere, voglio arrivare alla fine e dimostrare al Bosco la che sono. Questo non è uno show, non siamo un'agenzia di collocamento e io non faccio sconti a nessuno. 16 promesse del business sono arrivate a Milano. State per affrontare il colloquio di lavoro più difficile e più pesante che abbiate. Ti ho detto, ho visto quello del tocchè, ci piace, il primo... Tina, basta, non siamo qui a fare shopping, santo cielo. Due squadre, una vince, una perde. Io vi manderei fuori tutti quanti, ve l'ho detto, siete dieci caproni. E in ogni puntata, un ca... Nella quinta settimana di The Apprentice, i candidati si sono confrontati col mondo della pubblicità e hanno creato una nuova campagna per il nuovo rasoio Panasonic. Nel team, il gruppo, Martina ha tirato fuori tutta la sua personalità. Non sto dicendo quelle che avete detto non importanti, ho detto, ho visto quello del tocchè, ci piace. Martina, basta, basta, abbiamo capito. Nel team Lux, Alberto ha messo in crisi il leader Matteo. Matteo, Matteo, a te piace? A te piace, Matteo. Alla presentazione, lo spot del gruppo non ha convinto l'amministratore delegato di Panasonic Italia. Ho individuato il vincitore. E Jessica, responsabile creativa insieme a Martina, ha pagato per la sua presunzione. Jessica continua a dire che la D di Panasonic capiva molto meno di lei. Jessica, sei fuori. Ora, a competere per il contratto a sei cifre, messo in paglio da Flavio Briatore, sono rimasti in sette. Milano, la città degli affari, si è svegliata. Le strade si riempiono, la gente corre al lavoro, gli uomini di business si dirigono ai loro uffici. Per i candidati di D'Apprentice, l'appuntamento col boss è presso uno dei monumenti più famosi della città, l'Arco della Pace. Salve. Ciao. Allora, oggi i team leader li scelgo io. Silvia, sarai la team leader di Lux e Martina, la team leader del gruppo. Però, per mescolare un po' le carte, adesso, Silvia, hai la possibilità di cedere un membro della tua squadra a Martina. Scelgo Alberto per Martina. Alberto. Bene, queste sono le squadre. Qui avete visto che è spettacolo, è un luogo fantastico, un luogo di ispirazione se volete, perché l'ispirazione è parte della prossima prova. Perché la prossima prova è legata all'arte. Voi dovete organizzare una mostra, un vernisage, e chi vincerà? Chi vende più quadri dell'artista che avete scelto. Sarà un lungo viaggio, perché la prova sarà al sud d'Italia, per cui vi mettete in cammino adesso. E buon viaggio e good luck. Grazie a tutti. Per il sesto incarico, i candidati fanno rotta verso il sud Italia. I due team avranno a disposizione una location molto speciale per allestire il loro vernisage. La fastosa reggia di Caserta. La fastosa reggia di Caserta. Ad attenderli sul posto, i due tutor e il presidente di Sintesi. Buongiorno ragazzi, sono Pasquale Russo, presidente dell'azienda speciale Sintesi, che si occupa di promozione turistica per la Camera di Commercio di Caserta. Voi oggi siete qui per sostenere una prova legata all'arte, è per questo che io vi lascio e lascio la parola ai vostri tutor. Durante il primo giorno di prova dovrete scegliere un artista tra i cinque selezionati. Dovrete scegliere una delle due location messe a disposizione dalla reggia di Caserta. Il secondo giorno. Da capire che cosa vuole, com'è la sua esposizione, com'è la sua idea. Perché sai, ogni artista ha un'idea diversa, è un artista, quindi l'artista è già un po' matto di per sé. Capiamo proprio tutto quello che racconta, quello che dice. Buongiorno. Buongiorno. Martina, piacere. Piacere, aderzo dell'ora, piacere. Ci racconta un po' di cose, magari intanto che ci fa vedere anche il suo meraviglioso studio. Il primo incontro è col maestro Giovanni Tariello. Io faccio vedere alcune cose. Sì? Posso toccare? Ci si voglia di toccare. Si sente il senso anche della materia. Sì. Questa è sempre la figura di un uomo. Sembra la figura dell'uomo. La testa con la persona all'interno. È la testa, questa è la questione. È la testa col pensiero, quindi la persona all'interno. Dai pensieri dell'uomo del maestro Tariello ai cappelli delle donne di Claudia Mazzitelli. Buongiorno. Buongiorno. Grazie Enrico. Sono Claudia Mazzitelli, molto lieta. Buongiorno. Buongiorno. Molto piacere. Questi sono i suoi, come li possiamo chiamare? Sono le mie opere. Le sue opere. Sì. State vedendo delle pittosculture. Sì. In realtà io non utilizzo solo la pittura, ma mi servo di diversi materiali che fungono anche da colore sul quadro. All'inizio Enrico e Francesco avevano il solito atteggiamento che li caratterizza un po' rigidi. Mi sembravano un addetto alle pubbliche relazioni e un ambasciatore in visita ufficiale. Ma in generale, che livello di prezzo abbiamo? Questo è un 80-100. Siamo intorno ai 2.500-3.000 euro. Dei quadri un po' più piccolini e possono partire anche da 100 euro. Però hanno capito che la signora aveva un prodotto molto standard, molto ortodosso e soprattutto molto contenuto nei prezzi. Grazie e buona giornata signora. Grazie e complimenti ancora. Grazie. 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 Arrivederci. Lei è giusta? Sì, lei è perfetta. Si incastra perfettamente. Buongiorno. Buongiorno. Silvia e Matteo sono giunti al laboratorio di Arturo Casanova. Questa è la mia linea, sì. La sua linea? Sì. La mia ossessione è dare visibilità all'invisibile. Nel senso che non esiste tutto ciò che appare, ma anche tutto ciò che si vive nel silenzio. Più mi sono avvicinato, più mi è data emozione. Quattro. È normale. Le scuole dell'arte. No, 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 scusa. Ok, ok. Le faccio due domande, Giovanni. La prima è, se ne avessimo bisogno di fare una mostra espositiva, la sua figura a me piacerebbe molto. Le può interessare? Mi dà il supporto? Mi darebbe il supporto? Le do soltanto il supporto? Cioè, posso essere presente se la cosa? Se la cosa è bella e organizzata bene. Se è bella e organizzata bene, di qualità, sì. Certo, certo. Però l'artista è uno che deve stare in solitudine e andare a soffrire. Faccio la seconda domanda, un po' il discorso dei prezzi. Questa è una cosa che a me non mi interessa proprio. Esatto, questo le volevo chiedere. Lei non ha neanche un ordine di idea? No, si può, do una cosa di questa su 7.000, 8.000 euro, questi due metri, quelli che ho fatto vedere. Quelli, esatto. E quelli là sui 3.000, quelli un metro per un metro. Un metro per un metro sui 3.000. Sì. Martina. Secondo me è uno molto giusto, è bravo, però sì, è un vero artista. È un vero artista, è molto rischioso. È bravo, dobbiamo ragionarlo bene perché effettivamente è un prodotto facile da vendere. Quello che è importante è che sia un artista bravo e che sappia comunicare, ma allo stesso tempo quando facciamo un po' le esposizioni ci deve aiutare a vendere. Certo. E lui lo vedo adatto a questo. È un artino. Si mette un po' in ombra. Mentre Martina e Alberto riflettono sul valore commerciale di Giovanni Tariello, Silvia, leader del team Lux e Matteo, proseguono l'incontro con il maestro Casanova. Ci sono alcune cose che cerco di non vendere perché le vengo. Per me c'è questo senso di paternità nei confronti. e ovviamente gli artisti sono personaggi, quindi bisogna approcciarli nella maniera giusta, quindi diciamo che tra me e Matteo, io cerco di essere un po' più empatica, Matteo è molto cararmato, cioè lui punta sempre al sodo. La domanda mi viene spontanea. Quindi la vendita, cioè, più che ho capito cosa voglio chiederti. Ma tu come artista ti posizioni nel basso, tu vai in casa della persona, del medio borghese o vai in casa di quello che... Sì, devo dire, medio alto. Anche l'arte è un business e vincerà il team che saprà venderla meglio. Matteo, esperto venditore, con Casanova va dritto al sodo. Enrico Perone, nell'atelier di Mimmo Vastano, la prende invece più alla larga. Ti piacciono i Sex Pistols? Sì, sono un ex-punk. Il tuo stile è così intenso? Noi abbiamo la possibilità di realizzare una personale all'interno di una location molto classica, che è la Reggia. Oh, mi hai colpito nel cuore. Enrico è molto bravo con le persone, ma nel contempo non perde di vista l'obiettivo, quindi sono sicura che lui stia facendo un ottimo lavoro. Benvenuto, Enrico Perone, molto lieta. Molto lieta, prego. Grazie, amo l'arte, anche se non sono un uomo d'arte, nel senso che non è il mio mestiere, quindi essere qui da voi artisti è meraviglioso. Pativa. Il tour degli artisti è terminato. Per Lux è il momento di scegliere all'interno della Reggia di Caserta la location più adatta per allestire il vernissage. Buonasera, molto piacere Silvia. Buonasera, sono Vincenzo Mazzarella, storico dell'arte della Reggia di Caserta, e benvenuti in questa splendida cornice dei Borboni. Seguitemi. Grazie. Questo è il criptoportico del bagno di Venere. Cioè è suggestivo, eh? È bellissimo. Va illuminato bene perché è molto buio. Se fosse tutto bianco esce. Ma vedi che si mette un quadro sul rosa, sì. Rimane un po' confusa. Se io entro qui, guardo il quadro. Se entro là, guardo le statue. Anche per il team il gruppo è tempo di sopralluoghi e Martina, in compagnia di Alberto, ispeziona le due location. Prendiamo la misura. Uno, due, tre, quattro. È una roba... Cioè, però questa secondo me è una galleria completa. È già una galleria d'arte questa. Ho visto le due location e la prima è quella più istituzionale, classica, dove veramente il focus è sul quadro. E l'altra, bellissima, ma proprio non ci ho pensato due secondi, questa anche Alberto. Ma penso che era molto naturale la scelta. Andava da sé. A fine giornata, i team si recano a Palazzo Belvedere per fare il punto. Come sede della mostra, entrambi hanno già scelto i locali di una dependance della reddita. a scapito del criptoportico di Venere. Ma il difficile è scegliere l'artista. Siamo andati per primi dalla signora Mazzitelli. I pro sono che hanno un'idea chiara. Quando tu vedi un suo quadro, se sai che è Mazzitelli, poi te lo ricordi. È sempre Mazzitelli. Il contro, secondo me, è uno principale. Una percepzione poco artistica. Quando io dico la signora Mazzitelli, intendo la signora Mazzitelli. Allora, parliamo di Claudia Mazzitelli. È un'artista internazionale. Una sua caratteristica interessantissima è che lei ha tutto che ruota intorno alla donna. La mia paura è che il quadro di donna taglia una fetta di mercato. Questa volta, nella scelta dell'artista, come ormai di consueto, si crea un conflitto tra me e Matteo, che però tende a essere tutte le volte costruttivo. Se entrano 100 persone, 50 maschilisti incazzati con le donne, dicono, ah no, ca... Mi metto nelle parti del cliente a vedere solo donne con i capelli, come vendere un buono prodotto. È una paura che mi viene da commerciale. Poi se devo mettermi nel venderla, il sorriso plastico te la picchio fuori tutte. Giovanni Tariello, una persona molto particolare, qua lo conoscono molto e la fascia prezzo... Tecnicamente un metro per un metro si aggira intorno ai 6.000 euro. Quindi lui dice, giustamente dice, il mercato dice prezzo 6.000, però potete lavorare fino a 3.000 euro. Abbiamo fatto una scrematura, diciamo che in linea massima erano due poi, quelli che rimanevano. La signora e Giovanni Tariello. Cosa scegliereste? Allora, io la signora sono convinto che si possa vendere, i prezzi sono un po' più bassi, a mio gusto personale mi piace di più questo artista. Giovanni Tariello, secondo me, è quello che ci serve, proprio per più che un gusto personale, per quello che ho sentito dire anche a livello commerciale, il supporto in più e oltre quello proprio una scelta a livello appunto di vendita, diciamo. Io direi lei. La scelta dell'artista è ricaduta su Mazzitelli, Claudia, è un artista che ho visto io questa mattina e indipendentemente dal mio gusto personale ho cercato di trasmettere dal team leader un punto di vista oggettivo. Adesso abbiamo scelto, adesso dobbiamo vendere e siamo pronti ad asfaltare gli avversari. Il gruppo ha scelto il maestro Tariello, Lux, la signora Mazzitelli. Quale dei due team avrà avuto più fiuto nel particolare business dell'arte? Sicuramente quello che saprà venderla al prezzo migliore. Secondo giorno di prova. Il caldo sole del Mediterraneo illumina Caserta, le sue bellezze naturali, i suoi splendidi monumenti e le aspirazioni di successo dei candidati. In serata avranno luogo i vernissage. I due team hanno poche ore per procurarsi il necessario per l'allestimento. Matteo, il venditore del team Lux, stavolta si dedica agli acquisti. Vorrei delle mozzarella, però sarebbe interessante i bocconcini. Dove? Il sere mio. Posso darti del tuo? Assolutamente. Mi dica lei cos'è la cosa migliore secondo lei in un vernissaggio. Mi affido il tuo buon gusto. Vai, grazie Enzo. Ti ringrazio. Da solo credo di aver fatto un lavoro veramente ottimo. La mia simpatia credo che il mio buon umore venga apprezzato anche Caserta. Bravo. Beh, il casertano comunque è gente di sangue. Io sono un emotivo che si incavola per poco e si innamora di tutto, quindi io vivrei qua e loro penso che mi vorrebbero. Anche Alberto e Francesco, terminati gli acquisti, tornano alla Reggia, dove Enrico Tarantino e la team leader Martina stanno allestendo lo spazio espositivo. Ciao, ciao ragazzi. Benvenuti. Ragazzi, allora questo è lo spazio. I cavalletti, noi abbiamo fatto una piantina con Enrico, abbiamo scelti tutti i quadri per stanza. Intanto li apriamo e li posizioniamo. Nel team Luxe c'è grande fermento di preparativi. Quando fa il suo ingresso in scena la pittrice, Claudia Mazzitelli. Buonasera Claudia. Ciao, che piacere di vederti. Ciao, che bello. Allora, ti presento gli altri. Ciao. E Matteo. Ciao, molto felice. Ragazzi, sono felice di lavorare con voi stasera. È la prima volta che abbiamo nella stessa location le opere e l'artista, quindi cose che di solito si fanno in più tempo, noi ne abbiamo pochissimo e dobbiamo fare al meglio. A sua volta, il gruppo riceve la visita del maestro Tariello. Questi due qua, come così? Il maestro forse avrebbe preferito un approccio un po' più minimalista e anche una scelta di minore opere. Se Tariello supporta il gruppo dispensando consigli sulla disposizione delle tele, la Mazzitelli fornisce a Luxe un aiuto dal tocco decisamente femminile. Tre hostess con tanto di cappello in testa. Ci sono delle rose. Quando arrivano le persone, i visitatori, voi offrite una rosa alle signore. Gli allestimenti sono terminati. I vernissage possono aprire ufficialmente i battenti. Il pubblico è molto eterogeneo. Esperti, mercanti, collezionisti, semplici appassionati. Prego, accomodatemi. Prego, prego. Queste proprio, non servono neanche parole per raccontare. Noi per, diciamo, dare il giusto spazio all'artista abbiamo preso opere di varie dimensioni proprio per vedere che lei si muove dal piccolo al grande. La scelta di Luxe di scegliere un artista comunque con una gamma, fascia di prezzi un po' più ampia potrebbe essere un punto a loro favore. E queste sono le opere più rappresentative, le opere per cui è stato conosciuto inizialmente. Lui ovviamente toglie il superfluo, però ovviamente è una semplicità che lascia comunque sia il segno. L'autore vedeva quando era giovane che non capivano cosa intendesse, lo prendevano un po' per pazzariello. I membri del gruppo sembrano essersi trasformati in perfetti critici d'arte. Si vede come se lui volesse percepire l'essenza delle cose. Sono rimasti molto sul vago, invece avrebbero dovuto parlare di soldi e cercare di vendere in ogni caso. Enrico Perone, sfruttando la sua parlantina, aggancia una possibile acquirente. Siamo allineati su un valore commerciale di 3.000 euro, invece le altre due sono 1.500 l'una. Sarebbe interessante prendere sia Martini che Caipiroschi e Mojito. Per fare un trittico, io penso che sia la cosa migliore se parliamo dell'investimento. Ho appena venduto tre quadri in un trittico, la signora era interessata ai fini di investimento e sono contento. Lei sapeva già dove metterlo? Aveva già la posizione perché è importante, no? Eh sì, e dove lo metterlo? Sicuramente è una parete bianca. Bravissima, questo è in assoluto, bravissima, con un tratto giusto. Stiamo per chiudere due, uno da 1.800 e uno da 3.000. Sono molto calde, le stiamo manipolando. Quindi, è ciò che hai fatto. Stringiamo la mano e lei mi segue. Benissimo. Bene, mi seguo allora, grazie. Ok, uno è già andato, uno è già andato, è grande. Sto chiudendo anche questo, sto chiudendo, ok? Le ho fatto vedere tutti i quadri. Però questo penso che sia particolare come quadro. E loro mi hanno detto anche il costo e io chiedevo... 2.650. 2.650. 2.7? 2.7. 2.7, guarda 2.7 e ti offro un po' cosa da mangiare. Che dici? Speravo che andasse bene, già a questo punto non pensavo così bene. Quindi Valerio, ti piace? Mi piace molto questo. Ottima scelta, complimenti per il congusto. Affare fatto, Valerio. Gli 800 euro e anche quello che è 50 per 70. Invece le opere un po' più grandi, 3.000 euro. Sempre trattabili. 3.000 euro. Ah, è grande! Enrico Tarantino prova a piazzare il quadro più costoso del lotto. 10.000 euro, ma abbassabile sensibilmente se siete interessati. La signora non si lascia convincere e fa una capatina anche al vernissage del team Luxe. Mi permetta di dirle che quello è un concetto senza tempo. E l'unica cosa che mi sento di dirle è senza forzare la scelta. Il gruppo sembra intenzionato a recuperare la cliente perduta e decide di adottare una tattica non propriamente ortodossa. Un'invasione di campo nell'area espositiva di Luxe. Alberto, hai sentito il quadro da 10.000? L'hanno abbassato della metà da quella parte. Sì, sì, vieni. Mentre stiamo trattando un quadro d'arte, ci sta a ridere e scherzare, ma si devono entrare a fare gli spiritosi. Tra poco, in boardroom, i candidati conosceranno il risultato finale. Chi avrà incassato di più? I pensieri di Giovanni Tariello o le donne con cappello di Claudia Mazzitelli? Perché sarà proprio il risultato della vendita che determinerà il team vincente. Ma sarà Flavio Briatore, come sempre, a decidere chi eliminare tra gli sconfitti. Per me sì. Nella sesta settimana, i candidati di D'Apprentice si sono trasferiti alla reggia di Caserta per un incarico legato al mondo dell'arte. Scopo della prova, organizzare la vendita dei quadri di due noti pittori casertani. Il team Lux, guidato da Silvia, ha scelto Claudia Mazzitelli. Mentre il gruppo, agli ordini di Francesco, ha optato per Giovanni Tariello. Due insospettabili, Matteo e Alberto, hanno messo in campo tutta la loro sensibilità estetica. Se più mi sono avvicinato, più mi ha dato emozione. È normale? Sì, è un vero artista. Ora i vernisage sono terminati. I candidati in boardroom stanno per scoprire quale team ha incassato di più. Ma scopriranno anche chi, tra gli sconfitti, dovrà lasciare D'Apprentice. Per me sei fuori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a vostro. Allora, l'incarico che vi ho affidato questa settimana vi deve mettere alla prova con un business molto, molto particolare, Quello della vendita di opere d'arte, che è un business molto difficile perché il compratore d'arte è un target un po' a sé, per cui è difficile da trattare, specialmente per chi non è nel settore. Da quanto mi è stato detto, tutte e due le squadre si sono comportate molto bene, anche perché siete rimasti in pochi e sicuramente siete i migliori. Allora, analizziamo la prova. Iniziamo da Lux. Sì. Sevia, credi di aver organizzato bene il tutto? In questa prova ho scelto, per creare la giusta atmosfera all'interno del mio team, di lasciare a loro due gli spazi necessari per essere protagonisti dei loro momenti. Enrico, cosa pensi tu del team leader? È riuscito a mantenere il controllo della situazione senza imporsi, quindi ho percepito da parte sua più che un'autorità, un'autorevolezza. Matteo? Beh, anche per me Silvia è dinamica sicuramente. Un giusto leader credo che debba dare gli spazi giusti e debba delegare. L'ha fatto, non sappiamo com'è andata, comunque sono positiva. Bene, soddisfatti. Passiamo al gruppo. Il leader è una mattina. Sono stata molto bene con loro a lavorare, spero che anche loro abbiano apprezzato, cercato anche loro di dare degli spazi, assolutamente. E anche durante il vernissage siamo stati molto concentrati tutti quanti. Voi siete d'accordo su tutte le scelte che ha fatto il leader? Assolutamente sì, boss, sì. Onestamente sono rimasto un po' deluso quando ho conosciuto il maestro Tariello perché era molto schivo. Per cui sei un po' critico nel confronto della scelta del maestro? Le opere erano meravigliose, la persona era molto schiva. Voi invece, Lux, vi siete orientati su un artista più commerciale? Quest'artista aveva un range di prezzi più ampio. Bene. Taglie, c'è diversa. Scusate, voi avete visto la stessa artista o no? Sì. Loro due sì, io non l'ho vista. Potevate scegliere comunque la stessa artista? Sì, sì. Bene, certo. Sì, sì, sì. Simone? Ma il team Lux, devo dire, che si è comportato, secondo me, molto bene in tutta la fase di vendita, dall'inizio alla fine. Vorrei fare un elogio, direi, particolare ad Enrico Perone, il quale è stato molto educato, molto gentile, quindi direi un ottimo ambasciatore del prodotto. La ringrazio, davvero. Vediamo i risultati. Patrizia, il gruppo quanto è incassato? Il gruppo ha venduto tre opere dell'artista Tariello e ha incassato 5.700 euro. Simone? Lux ha incassato un totale di 8.700 euro per un totale di cinque opere vendute. Lux, vince la prova. Credo che la complicità con l'artista è stata fondamentale e siete stati bravi. Complimenti. Grazie, boss. Allora, come premio andrete a godervi un'altra forma d'arte che sicuramente stimolerà la vostra creatività. Che ci servirà per la prossima. Andate pure. Grazie. Grazie, boss. Bravi. Grazie. 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 Martina, sicuramente qualcosa non ha funzionato nel vostro team. Io credo che l'artista ha fatto la differenza. Sì. La modalità di vendita e l'approccio in generale. Però più tardi analizzeremo la situazione di questa sconfitta. Andate, grazie. 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 Grazie a tutti. Diciamo che la coreografia mi viene meglio con il maestro, ma la devo fare con Enrico e Matteo e pazienza, mi accontento. Nel bar dei perdenti, i membri del team e il gruppo non hanno certo voglia di ballare. Io comunque, ragazzi, credo una cosa, che siamo stati tutti bravi e vabbè, è stato detto, ci siamo impegnati. Mi gira un po' semplicemente e metto in gioco tutti quanti perché ci siamo fatti sfuggire due o tre vendite. In questi casi qua, come ha detto anche il boss, sì, devi stare sui pezzi e saper vendere, però non vai a vendere il pesce. Quindi bisogna anche avere un certo tatto. Anche essere troppo invadenti non va bene, nello stesso tempo neanche schivi. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, avevo visto tutti concentrati. Le colpe che imputò Martina sono probabilmente che non ha venduto, quindi lei è organizzato, però su un gruppo di quattro persone non puoi pensare di perdere una forza lavoro, il 25%, il 25% su quattro è estremamente tantissimo. Il fulcro era la vendita e quindi dovevamo vendere. Bene. Anzi... Male. Se vedo la vostra prova, proprio dal punto di vista imprenditoriale, non c'è stata nessun tipo di complicità tra voi e l'artista. Anche Francesco, prima mi dicevi che era una persona abbastanza difficile da trattare, vero o no? Si è andato via prima, si è presentato con la macchina fotografica, parecchio schivo, sì. Ho detto, lui è molto rischioso, perché sì, è conosciuto, sono delle belle opere che lasciano, secondo me, anche molto al visitatore la libera interpretazione, quindi secondo me piace sia un uomo che una donna, è ok, però di colui è molto riservato. Io ho fatto una domanda molto chiara all'artista che mi interessava molto, ma lei viene se noi facciamo una cosa organizzata in un certo modo? Lui ha detto, vengo solo se viene organizzata bene. Quindi, effettivamente, l'artista è vero, era molto schivo, però effettivamente l'artista c'era, perché comunque aveva la presenza. Però non è stato collaborativo come l'artista del Lux. Perché avere un artista lì che non dice niente, si mette un angolo e meglio non averlo. Ma la critica è a voi, perché avete scelto il personaggio sbagliato da vendere. Avete scelto pochi quadri con dei prezzi inferiori, tipo 500, 400, 300 euro, voi non avete scelto i quadri così. Il quadro che costava di meno era sui 1000 euro trattabili. Però principalmente la sua fascia è più alta. Martina, ce n'erano di più piccoli e voi li avete considerati solo alla fine. ...che ti avrebbe anche fatto vincere la gara, che era una signora che era interessata al quadro più importante che avevate in galleria, che era un quadro di... Allora Martina, mi fai i nomi? Francesco e Alberto. Martina, perché hai scelto di nominare Francesco e Alberto? Allora, ho scelto di nominare Francesco, anche se come dicevo prima, ho un po' in difficoltà pensando anche a Enrico, perché si stringe il cerchio e non è facile decidere. Ho deciso lui perché è con lui che ho parlato per telefono quando sono andata a vedere gli altri tre artisti. Io non c'ero ad esempio a vedere anche la signora. E per quanto riguarda Alberto, quello che ho visto io è stato, secondo me, la persona un pochino più difficile da gestire, tra virgolette. Nel senso che comunque, ripeto, che quando ha veduto anche il quadro, tra l'altro, ripeto, ad una persona che ho cercato di intrattenerla io all'inizio per 20 minuti. L'ho visto molto rilassato e più di una volta ho detto, ragazzi, muoviamoci il tempo strino, cerchiamo di essere concentrati e copriamo delle zone dove comunque le persone arrivano. Per cui tu ritieni che lui svolto il suo compitino ormai fosse soddisfatto, perché lui non aveva più motivazioni per continuare a vendere altri quadri. Questo ho notato, ma gliel'ho fatto presente anche a lui in mostra, bisogna cercare di essere concentrati. Invece di scuotere la testa come una campana, perché non parli? Non sono d'accordo, non sono d'accordo. L'unico rimpianto che possa avere è che non ho venduto tanto, quindi io ho venduto un'opera, sono riuscito. La vendita dell'arte secondo me è una vendita molto emozionale, quindi è una vendita particolare. Noi abbiamo perso per la mancata vendita, perché sicuramente... Mancata vendita? Sì, ma non è una cosa che fosse rizzata. No, 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 Eric ha venduto un po' di... Perchè l'unica che non ha venduto sei tu. No, ma infatti io sto dicendo che mi ci metta anch'io, ma il problema è che io più di una volta per me era difficile veramente, come dire, organizzare loro. Nel senso che io mi sono trovata più di una volta a ricoprire il ruolo di intrattenere, far venire le persone dicendo... Capito, io sono andato sul patio a prendere i clienti con Francesco, con lo siamo pari. Ma chi te l'ha detto? Certo, tu, però voglio dire che ci sono andato io, però voglio dire, era la fine. Questo voglio dire, non è che sto dicendo che io sono proprio effettante. Normale, voglio dire fuori discussione. Berto, secondo te chi dovrei salvare? Probabilmente, molto onestamente, Francesco. Io penso di aver fatto quello che devo fare, l'ho fatto. Ah, di, scusami, se posso parlare? Siamo andati a vedere gli artisti insieme. La prima, che era scettica sull'artista, tu ti sei fatto prendere molto dall'emozione all'inizio, ok? Ma ti ripeto, l'ho scelto anche io, però l'atteggiamento quale è stato? Io, molto più riflessivo del tuo. Eravamo tutti e quattro quando eravamo scelto. No, quando ho detto la signora... Adesso è il mio e il tuo e l'altro. Allora, scusami, finisco un discorso. Sembra che sia io che ho scelto per tutti e quattro. No, sto dicendo che ci siamo deciso tutti quanti. O sono così bravo, sono un gran venditore che vi ho convinto. Quindi io vi ho convinto tre persone del mio team a scegliere mezzi. A quando abbiamo parlato con loro? A scegliere il mio artista. Ce l'avranno tutte? Di chi è la colpa a questo punto? No, no, tutti quanti. No, non puoi dirmi di tutti e quanti. Non sono d'accordo. Albi, scusami. Non sono d'accordo. Posso dirlo, non sono d'accordo. Tu sei partito con un treno che lui era giusto. Dicendo che abbiamo deciso tutti insieme. Alberto ha venduto, Martina non ha venduto. Io la vedo molto riduttiva come cosa. Perché in questo caso non si andava a vendere il pesce. Perché io nell'altro proprio ho sempre venduto. In questo caso era molto diversa. Quante volte vi ho ripreso e nessuno stava a parlare con le persone? Io vi ho chiamato anche due volte, non c'eravate più. Io a un certo punto non sapevo dove erano. Allora, Martina, è stata fondamentale nel portare la gente dentro o no? No. Francesco? Non in maniera incisiva. Non in maniera incisiva. Cioè, non la vedo, vi state equalizzando per difendervi. Perché vedete che io non la vedo. Non è la cosa che non la vedo. Sulla base della formazione. La verità è anche questa. Che tu hai scelto due componenti del tuo team. Il nomination che secondo me non le hai scelte giusti. Voi avete perso per una mancata vendita. Enrico non è stato nominato. Qual è la strategia? Il primo che avrei nominato sarebbe stato Enrico. Per cui io cerco una persona su cui posso contare che non crei confusione. E deve sempre avere il controllo della situazione. Il business è sempre business. E le colpe maggiori in questo caso qui sono tue. Martina, per me sei fuori. Voi due stiamo finendo. Per cui avete poche possibilità per dimostrarmi chi siete. Cercate di farlo o se no anche voi farete la fine di Martina. Assolutamente. Grazie. Tornate a casa e alla prossima. Alla prossima. Grazie. Dai Bella, vieni. È andata di lusso. Non mi fa ne caldo ne freddo che sia uscita Martina piuttosto che un altro. Adesso siamo tutti forti. Quello che mi interessa è salvare la pellaccia di volta in volta. Per la settima prova di D'Apprentice, i candidati dovranno darsi la sveglia. Alla mattina, prima di iniziare il lavoro, ho sempre avuto e ho l'abitudine di prendermi un buon caffè. I due team entreranno nei laboratori della Mocarabia a Bologna per creare due nuove miscele di caffè. Avete in mente un caffè? Quello che avreste sempre voluto bere nel bar? Avete la possibilità di fare. Vincerà la squadra che sarà riuscita a guadagnare di più dalla vendita del nuovo prodotto. Il caffè l'ho fatto con lo zucchero o senza zucchero? Non sono specialista. Se mi chiede di mortadella, di prosciutto, sono uno specialista. Il caffè l'ho fatto con lo zucchero.